Ma io vorrei abbassare un poco il livello di tensione perché noi stiamo lavorando per raggiungere gli obiettivi. Io comunque sia, al di là del fatto che il San Paolo sappiamo nelle condizioni in cui sta, porterei un po' più di rispetto. Perché in quello che lui ha chiamato cesso, il Napoli di Maradona ha vinto lo scudetto. E abbiamo tutti quanti esultato. Quelle impalcature in ferro bisogna chiedere a chi eventualmente le ha messe, ha sperperato soldi, ha fatto quello a Brobrio. Ma per me il San Paolo rimane un luogo che quando vado non mi sembra di stare in un cesso, ma provo delle emozioni che nel cesso in genere non provo. Quindi credo che ci vuole un rispetto da parte di tutti quando si parla della città. E magari se lui considera quel luogo un cesso, facesse presto a mettere i soldi per farlo diventare un salotto più accogliente. Se non lo fa, io mi sto muovendo, insomma, ovviamente per renderlo un luogo sempre migliore. Partendo dal fatto che comunque è lo stadio della città, è tutelato dalla sovrintendenza, che mi risulta in genere non metta i vincoli sui cessi. Ci sono piste di atletica, ci sono tante attività sportive, quindi bisogna avere più rispetto. Io semplicemente sto cercando di creare le condizioni perché il Presidente investa. Io mi rendo conto che quando agevoli le cose diventa difficile poi avere argomenti seri con cui contrastare. Allora si mette in cacciare. Ecco perché voglio abbassare la tensione. La voglio portare negli argomenti corretti. Noi abbiamo messo il Presidente nelle condizioni di investire. Ci dica quello che vuole fare e poi noi valuteremo, assumendoci la responsabilità, se si tratta di una proposta tecnicamente ed economicamente concreta. Come voi sapete, perché se siete attenti a osservatori, per fine ottobre scadono i termini dove noi dovremmo appunto dare una risposta definitiva al Presidente in base alle proposte che sono state fatte. Io non mi faccio condizionare dalla campagna elettorale. Io ho un programma che ho presentato in campagna elettorale, ho delle idee, ho maturato dei convincimenti in questi mesi. Vorrei concludere il mio mandato nel porre una parola fine alla questione San Paolo. Fine significa di aver messo in sicurezza tutto il processo di riqualificazione vero dello Stadio San Paolo. E siccome c'è qualcuno che la può portare alla lunga per poi trascinarla fino alla campagna elettorale, non è un caso che io da quest'estate, quando ho capito che non tutte le cose combaciavano bene, ho iniziato a lavorare per il piano B. Chi fa il sindrome di Napoli deve avere il piano A, il piano B, il piano C e il piano D. Quindi c'è il piano B. Ma noi auspichiamo la realizzazione del piano A. Ma il piano B è quello che già era stato presentato in passato? Noi auspichiamo che si è realizzato il piano A. Una alla volta. No, 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 tedeschi no, sono italiani. Napoletani. Quel gruppo lì che fa capito? No, 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 è pubblico. No, 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 se no questo sì, è pubblico. L'opzione B è pubblica. Non ci sono risorse private. Vabbè, l'opzione sarebbe quella che mettete voi i soldi... Lo facciamo noi, facciamo un modello completamente creativo, unico, tutto napoletano, fatto di finanziamenti in parte pubblici e in parte con modalità che non sono nuve anche a questa amministrazione, che sono di raccolta anche attraverso procedure di crowdfunding. E Lorenzi si dirà che io sono stato a Caserta? No, io lavoro per il piano A. Il Presidente ha detto, se dobbiamo essere chiari, il Presidente ha detto che lui mantiene la sua parola, che vuole investire, ha fatto una proposta, noi risponderemo se questa proposta tecnicamente e economicamente è fattibile. Così a quel punto si capirà se la proposta è tecnicamente e economicamente fattibile. Io sono felicissimo, perché il mio obiettivo, ma lo dico sinceramente, è farlo insieme ad Aurelio De Laurentiis, e alla società Calcio Napoli, sarebbe per me il motivo di maggiore soddisfazione, tanto poi da fare veramente una cena con un bicchiere spumato. Questo è il massimo di realizzazione, però non posso più aspettare. Soprattutto non mi sembra serio che si tiri questa corda in continuazione. Se la proposta non è realizzabile, non è tecnicamente sostenibile, non è economicamente soddisfacente, perché parliamo di dare in proprietà sostanzialmente uno stadio, che si fa? Si rimane così, si rimane con uno stadio che sicuramente non è come l'ha definito il Presidente, ma che sappiamo tutti ha bisogno di interventi. A quel punto noi non vogliamo farci trovare impreparati, stiamo lavorando a un'opzione molto più difficile, molto più complicata, molto più non prevedibile fino a qualche mese fa, invece adesso ci vogliamo lavorare. Quindi per dirvela in soldoni, noi entro la fine del 2015 questa partita la dobbiamo chiudere in un modo o nell'altro.